Allora, faccio una parola e sono strillata che vi devo dire una cosa, se vi mando passare dietro e voi gli stompate addosso, tornate a camminare avanti, mi pensi? Se ne si vede ragazzi, per voi non ci si vede, per voi. Grazie a tutti, una cosa purtroppo è una cosa di noi, ma è una cosa di normalizzazione, quindi non andiamo a cercare di fare il possibile, ma anche noi ci vediamo a stringere lì. Quindi ci vediamo a dire che quando è possibile proviamo, anche se non è la norma in palco, però proviamo a fare il possibile. Quindi vi dobbiamo anche un po' di pazienza, essendo la prima data che facciamo nelle risposte, quindi un attimo per Rasse e Straccia, ok? Grazie. E mi raccomando, portate rispetto alle persone che vengono dopo di voi, perché se voi fate qualcosa che non va, le persone dopo di voi non fanno la foto. Intesi? Grazie. Allora, io invece devo dire un'altra cosa, siccome ci sono le persone che stanno prendendo il disco qua dietro, ovviamente ora ce l'abbiamo quasi in posto, però da Saturn, da Mondazione,